Questa piazza dimostra che il progetto dell'Unione Europea è un progetto fasulo, è consulto sulla speculazione, è consulto soprattutto su ciò che si verifica attualmente all'exfo di Milano, fatta di mafia, di corruzione, di lavoro gratis e di sfruttamento. La lotta dei migranti è innanzitutto la lotta di chi non vuole rassegnarsi di fronte a chi sta calpestando il nostro presente e vuole sequestrare il nostro futuro. Questa piazza crede in giustizia sociale, chiede lavoro, libertà di circolazione, ma chiede soprattutto la smilitarizzazione dei nostri territori, in Africa e anche in Val di Susa. Si sta svolgendo pacificamente il corteo che vede insieme centri sociali e varie associazioni sfilare per il centro di Ventimiglia in favore dei migranti e per dire no alle frontiere. In tutto in piazza circa 500 persone. Il clima pacifico è tale che gli agenti della mobile hanno consentito un prolungamento del percorso sul lungomare.